Tutto bene? Ho un po' di tachicardia, credo. Amore... Sì, devo riposare. Sì, riposa. Riposa che io mi prendo cura di te. Vuoi che resti qua con te? Oh! Che mostro sono stata, santo cielo! Oh! Boh! Chi ha messo lì quella schifezza? Sarà stata sicuramente quella stupida della piccola, Cardo! No! Non chiamarla stupida! Non chiamarla stupida è molto brutto! Sicuramente sarà uno dei giochini di Flora. Ora glielo riporto. Sarà molto preoccupata. Poverina! Grazie! 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 Deve tan triste e tan solita Che hubiera dado mi vida Por curarte la serida Bravo! Bravo! Come mai qua, Paloma? Ti stavo ascoltando. Hai una bellissima voce. Beh, grazie, sei molto gentile. Beh, anche i mostri peggiori possono fare qualcosa di buono. Mi rendo conto che non devi essere un mostro se canti così. Ne sei sicura? Sì. Credo che sentendoti cantare, qualsiasi ragazza si innamorerebbe di te. Persino io ho cambiato idea. Ah, beh, questo è un miracolo. Parlo sul serio. Trasmetti qualcosa di molto speciale. Ora mi piaci di più. Florenzia? Dormivi? No, 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 non ci posso credere. Non mi dica che anche lei è sonnambula. No, è la mia coscienza che è sonnambula, tesoro. Io ti ho fatto molte cose cattive. E adesso il rimorso non mi lascia vivere in pace. Mi sembra giusto. Era ora che lei provasse dei rimorsi. Perché ad essere sinceri, lei non ha il diritto di vivere in pace. Ha fatto troppe cattiverie, signora Malala. Sì, hai ragione. Hai ragione. Io sono stata molto cattiva con te, molto cattiva. Ma cattiva è molto poco. Non è abbastanza. Lei si è comportata da strega velenosa. È stata una vera e propria carogna. E lo dico con tutto il rispetto, eh. Sì, sì, perdonami. Sì, perdonami, Flor. Ti prego, perdonami. Sì, va bene, la perdono. Ora se ne vuole andare a dormire, le dico una cosa. Ho dimenticato tutto quello che ha fatto e detto. Io no, invece. Io non ho dimenticato niente. Niente di quello che ti ho detto e niente di quello che non ti ho detto. Cosa non mi ha detto? Ci sono cose che... che io ho taciuto per molto tempo e che non mi lasciano dormire in pace. Quali cose? Cose che sono estremamente importanti per te. Cose che tu non sai. e che se non te le dico io ne morirò, tesoro. Quindi, mia cara, ora... io ti dirò tutto. Ecco il cocktail, faccio il piace tutto il成ino, faccio i gio. Grazie a tutti.